Uomini e donne. C'è attesa e trepidazione per il ritorno al trono over di un volto amatissimo dello show. Di chi si tratta? Uomini e donne. Il noto dating show condotto da Maria De Filippi si avvia verso la fine. Ida Platano e Daniele, i tronisti in carica, sono chiamati infatti a guardarsi dentro poiché tra poche settimane dovranno compiere la loro scelta. Dovranno fare il nome della persona con la quale intendono imbastire una relazione al di là delle telecamere. Si tratta di una decisione importante che impatterà sulla loro vita. Per questo stanno riflettendo costantemente. Il percorso sia dell'uno sia dell'altra ha conquistato i telespettatori. I quali stanno seguendo con spassionato interesse le loro vicende di cuore. Sono soprattutto le questioni di Ida e Mario a tenere i supporter dello show incollati allo schermo. L'attenzione è altissima anche nei confronti dei cavalieri e delle dame del trono over. Quest'anno si sono succeduti dei colpi di scena davvero inaspettati. Fatto che ha contribuito a mantenere lo share del programma molto alto. Ad estare particolare curiosità è stata l'uscita di scena di Roberta e Alessandro. Come non citare poi quella di Emanuela e Marco Antonio o quella di Claudia e Alessio. Queste coppie oggi si godono la bellezza della condivisione ma. Nello studio di Canale 5 hanno affrontato molte sfide prima di veder trionfare il loro amore. Uomini e donne. C'è grande attesa per il ritorno dell'amatissima dama. Per loro c'è stato dunque il tanto atteso lieto fine. Ed i fan della trasmissione sperano che anche per un'amatissima beniamina possa accadere lo stesso. Ha abbandonato il dating show per un certo lasso di tempo ed inaspettatamente ha deciso di farvi ritorno. Notizia che ha mandato i suoi fan in brodo di giuggiole. I telespettatori sognano infatti che l'amore bussi alla sua porta. Si tratta di Asmaa Fers. La dama 35enne originaria del Marocco e residente in Emilia-Romagna si è messa in gioco per trovare un uomo che possa regalarle gioia, serenità e sorrisi. All'interno dello studio dei Canale 5 ha conosciuto Diego. Il cavaliere romano tornato a sedere tra le file del parterre maschile in seguito ad un allontanamento. Tra i due non è scoccata però la scintilla dell'amore, e... La dama ha poi deciso di abbandonare lo show. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate, Asmaa farà il suo ritorno. La notizia è balzata velocemente in rete entusiasmando e non poco i supporter della dama, i quali si sono premurati di augurarle il meglio per la sua partecipazione.